C'è un sacco di roba sopra, non l'ha fatto bene, poi lì là, adesso quando vengono quei due ragazzi con 10 stupiatori, io gli do 50-60 euro, e ti pulisce tutto, e lo faccio una pulita, Enrico, se tu, perché tu sai troppe cose da fare, però se facevessimo mi sei d'accordo, poi io e te e Marco facciamo un viaggetto, e io vi dico, vabbè, quindi tu vorresti fare qui una spianata con un gazebo qua, Enrico, qui con i due muratori, facendolo, e questo vi è, poi il Mercedes, lo so che sia, non mi sembra un inquilino, senti, è, qua, si può largare, spiani, diventa, diventa tutt'uno, e ci possiamo fare il gazzibbetto, oppure quello, c'è quello, quella cosa, quel gazebo che stavo facendo, ricordi quelli in plastica, Sì, 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 sotto ci mettiamo i tavoli in maniera che, io ne ho comprato ieri uno di gazebo in ferro per sora, che è bellissimo, ma quello che c'ho io, te lo regalare, ma no, ma quelli non lo volevano così, lo volevano molto bello, se ti faccio delle foto, è bellissimo, Quanto la pagata? 130 euro No, ma questo l'ha pagato 500, 500 l'ha pagato questo Vieni, io non te voglio cominciare, adesso tu non prendere parole con nessuno, tu madre ha detto che vorrà vedere, ma quando questo qui, qua, qui adesso l'ha pulito, l'ha fatto tutto, salto, devo solo disinfettare, comunque la fare, se c'è qua, ce l'aveva ancora qualche cosetta, guarda, qua, quando tu hai levato questo, questo qui, che sono cose inutili, Sì, ma queste lo togliamo subito, ma non è mica brutto come ho detto, se tu butti via le robe che sono inutili, sì, ma sono tutte cose inutili, infatti, è la uguale, senza di niente a mamma tua, lo togliamo, buttiamo tutta sta roba, sì, senza di niente a mamma tua, chi ne usa mai quelle cose lì? Nessuno, da anni, perché questa era una cucina, diciamo, esterna, te lo so, ti ricordo, Maurizio, sì, questo qui, quando tu l'hai votata, Qui dentro, tu ci metti, queste, te lo gestate io, queste, vedi, perché erano rotte con le cadute, erano gestate tutti, quando butti via tutta sta roba, che è inutile, è inutile proprio, e si fa solo da una parte, eh, c'ha i cassetti, ci metti, sì, ma fai lo ascolta, questa cassettiera è tutta vecchia, e non funziona bene, questo è rotto con questo, questo pezzo, vogliamo, ne mettiamo un altro nuovo, ma che si è più funzionale, non è, allora devi buttare via tutte le due, ma infatti, butte tutto, ma per 150 150 euro c'è un armadio carino Sì, vabbè, è anche un armadio, però a un certo punto che Sì, vabbè...